Poliziotti in acqua scooter, il ministero fate i corsi ma poi trasferisce le moto. I mezzi assegnati alla questura di Lecce andranno a Gaeta. Era il titolo dell'articolo uscito a Pasqua sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, frutto di un'intervista rilasciata al collega Antonio della Rocca dal segretario provinciale della UIL Polizia, Salvatore Annesi. E tanto è bastato a far montare la protesta. Il ministero dell'interno, Matteo Piantedosi, aveva chiamato i poliziotti salentini a partecipare ai corsi per l'abilitazione alla guida delle moto d'acqua d'ordinanza, ma gli acqua scooter inviati alla questura di Lecce nel 2016 sarebbero stati dirottati a Gaeta per essere consegnati alla questura di Latina, così come deciso dal Viminale, che nel contempo agli agenti in servizio nel Salento ha spalancato le porte del diciottesimo e diciannovesimo corso di qualificazione per conducente di idromoto. Una beffa che ci lascia l'amaro in bocca e con tante perplessità, aveva detto Annesi, chiedendo perché il Salento debba essere privato dei due acqua scooter dislocati a Gallipoli per vigilare sui litorali in estate affollatissimi di bagnanti. Ora però arriva il dietrofronte del ministero, del quale si apprende sempre dalle colonne del Corriere. Le nostre moto d'acqua, che erano state destinate a Gaeta, resteranno nel Salento. Il caso, si legge, è presto approdato a Roma e, secondo quanto svela lo stesso Annesi, ha fatto molto rumore, suscitando in particolare l'irritazione dei vertici del Dipartimento, che presso il Ministero dell'Interno, guidato appunto da Matteo Piantedosi, si occupa della fornitura dei mezzi ai vari reparti della Polizia. Le moto d'acqua resteranno a Gallipoli al 100%, come era giusto che fosse. Siamo soddisfatti di Cennesei per il risultato raggiunto e di aver evitato che il Salento fosse privato di un servizio che nel 2016 era stato istituito tra la soddisfazione generale. Non possiamo, a concluso, lamentarci della mancanza dei mezzi per poi spedire altrove quelli che già abbiamo.